Un giorno un cacciatore, tornato da una battuta di caccia, si presentava a casa e decise di passare la serata con gli amici. Arriva al bar dove trova tutti gli altri cacciatori e comincia a raccontare la sua storia. Ah ragazzi cosa è passato oggi? Cosa è passato? Ti sei divertito? Ah sei andato a cacciare con il tuo bel fucile grosso grosso la lupara. Eh ragazzi non mi ci fate pensare, perché? Che cosa è successo? Mi trovavo in una battuta di caccia con la mia lupara. E allora? E di fronte a me perché mi vedo un leone, un leone, sì sì, che mi guardava fisso negli occhi. E tu che cosa hai fatto? Io l'ho puntato con la mia lupara e ho sparato. E allora l'hai preso? Ma quando mai? L'ho mancato però c'avevo un colpo solo. Ah sì? E che cosa hai fatto? E che cosa dovevo fare? Sono scappato. Corre e corre, corre e corre. Ogni tanto mi giravo e vedevo che il leone scivolava. Io mi giravo, il leone scivolava e io continuavo a correre. Mi giravo, il leone scivolava e io continuavo a correre. Madonna mia, mia, io al posto tuo mi sarei cacato addosso. E certo, che ti pare perché scivolava il leone? Oh yeah.